Che facciamo adesso, Samuele? Non lo so. Ci hanno ingannati. È stato davvero brutto. Pagheranno per questo. Pagheranno per questo. Cosa hai in mente? Seguimi. Ok. Capisci cosa significa, caro? Siamo ricchi! Non mangiare mai più pesce e indossare l'infradito. D'ora in poi avremo solo il meglio. Mangeremo solo nei ristoranti migliori. E dormiremo negli hotel più belli. Ma che mi dici dei bambini? Non ti senti in colpa? Non ti senti in colpa? Assolutamente no. Erano fastidiosi. Lasciamo che li mangino gli squali. Ah, Lisa! Che succede, Samuele? Penso che dovremmo nuotare più velocemente. Penso che dovremmo nuotare più velocemente. Perché? Perché? Perché lo squalo è tornato. Nuota più velocemente. Forza, Samuele! C'è un'isola laggiù. Ce la possiamo fare? Ancora un po'. Uff, è stato estenuante. Penso di avere ancora dell'acqua nell'orecchio. Dobbiamo tornare in città in qualche modo. Claudio e Tania probabilmente venderanno la nostra perla. Claudio e Tania probabilmente venderanno la nostra perla. Dobbiamo trovare un rivenditore. Così potremmo vendere la perla. Non vedo l'ora di ricevere tutti i soldi. Non vedo l'ora di ricevere tutti i soldi. La perla vale sicuramente centomila euro. Lo spero anch'io. Andiamo dal rivenditore. Guarda, Samuele! Lassù! C'è un aereo! Dobbiamo gridare molto forte. Così potrà sentirci. Aiuto! Non credo che ci abbia visto. Non credo che ci abbia visto. Cosa dobbiamo fare adesso? Non lo so. Lisa! Guarda! L'aereo sta tornando! Cosa state facendo voi ragazzi da soli su un'isola? Ci hanno ingannati. Sono stati le nostre guide turistiche. ci hanno gettato in mare. E' terribile. Sì, e hanno rubato la nostra perla. Dove dovete andare? E' meglio tornare in città. Lì c'è il nostro hotel. Ok, allacciate le cinture. Vi ci porto io. Vi ci porto io. Grazie mille. Lei è molto gentile. Ciao. Vorremmo vendere qualcosa. Mi dispiace, ma non compriamo cappelli di paglia qui. Non siamo su One Piece. Non vendiamo cappelli di paglia. Si tratta di qualcosa di speciale. Quanto puoi darci per questa perla? Quanto puoi darci per questa perla? Fatemi dare un'occhiata. Dove l'avete presa? Non ho mai visto una perla così grande prima d'ora. E' importante? Perché è interessato a saperlo? Dicci solo quanto ci puoi dare. Dicci solo quanto ci puoi dare. Vi darò 50.000 euro per la perla. Cosa? Ma sei pazzo? Vale almeno 100.000 euro. Ok, mettiamoci d'accordo su 75.000 euro. Ne vogliamo 90. Vi darò 80.000 euro e non un centesimo di più. Ok, affare fatto. Ecco i vostri soldi. Sono esattamente 80.000 euro. Mi sembra perfetto. Adesso potete andare. Stavamo per farlo. Dobbiamo trovare i criminali. Dove dobbiamo cercarli? Pensiamoci per un minuto. Cosa ci fate qui, ragazzi? E perché indossate delle mute? Stiamo cercando due ladri. Vanno in giro e vendono una perla. Li hai visti? Sì, erano qui pochi minuti fa. Hanno portato una perla? Hanno portato una perla? Sì, l'ho comprata. Ma quella è la nostra perla. Scusami, tesoro. È proprio così che funziona. È così che immaginavo la vita. Rilassati in piscina a bere birra. Cosa c'è di più bello? Per fortuna ci siamo disfatti di quei bambini. Per fortuna ci siamo disfatti di quei bambini. È stata la decisione migliore della nostra vita. Pensi che siano ancora vivi? Non lo so. Non importa. Cosa dobbiamo fare adesso, Lisa? Pensa come un ladro, Samuele. Cosa stai cercando di dire? Prova a metterti nei panni di Tina e Claudio. Cosa faresti se fossi nella loro posizione? Se avessi guadagnato così tanti soldi, mi andrei a rilassare. Se avessi guadagnato così tanti soldi, mi andrei a rilassare. Vorrei andare nell'hotel più costoso della città. Rilassarmi lì e mangiare un sacco di cibo. Hai ragione! Ecco dove saranno! La cosa migliore è che abbiamo anche la nostra camera in quell'hotel. Abbiamo un altro vantaggio. Claudio e Tina non sanno che siamo ancora vivi. L'effetto sorpresa è dalla nostra parte. Esattamente! Andiamo in albergo! Questa è la migliore bistecca che abbia mai mangiato. Questa è la migliore bistecca che abbia mai mangiato. Anche il vino è delizioso. Consegnato fresco dall'Italia. Adoro la nostra nuova vita. Anche io! Ciao bambini! Come posso aiutarvi? Stiamo cercando due ospiti. Si chiamano Claudio e Tina. Puoi dirci in che stanza si trovano? Purtroppo non è possibile. Non posso darvi il numero della stanza. A meno che tu non sia un membro della famiglia. Tina e Claudio sono i nostri genitori. Tina e Claudio sono i nostri genitori. Oh, bene allora. Sono nella stanza 204. Grazie. Come entriamo nella stanza adesso? Ci penso io. Ci penso io. Molto bene. Entriamo. Guarda, Samuele. È lì che si trovano i soldi. Prendiamoli e andiamocene da qui. Prendiamoli e andiamocene da qui. Fermi! Quindi siete sopravvissuti. Che sorpresa! Che sorpresa! Questa volta andrà diversamente. Ve lo prometto! In che stanza sono Tina e Claudio? A. 202 B. 203 C. 204 Scrivi un commento. Scrivi un commento. Ciao! Ciao!